Perché poi andremo verso qualcosa di sicuramente più conosciuto per noi, poveri italiani, no? Perché vabbè, avrebbero tutto da imparare dai nostri grandi artisti. My Kind of Girl, My Kind of Girl, della versione di Mr. Rachel Atitance. She walks like an auto walks And she talks like an auto talks To my mind there's a kind of curve Grazie a tutti 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 Grazie a tutti